Io sono Antonio Padovani, ho diretto un cortometraggio che è stato presentato nel concorso Future Lover e inoltre ho presentato un altro cortometraggio durante la giornata dell'industry per cercare di completare il budget. Va bene, allora vi racconto l'aneddoto di come è nata quella lama nel bosco è nata esattamente un anno fa, a luglio, quando tornavo dalla scorsa edizione dell'Overs Film Festival ero venuto qui ospite con la direttrice della fotografia, abbiamo fatto un brainstorming in treno di ritorno e abbiamo pensato di mettere insieme due idee separate, uno per quanto riguarda la tematica LGBT, di mettere a paragone le false accuse di stregoneria che avvenivano nel Medioevo con il tema del pregiudizio che purtroppo ancora oggi permane. Dal punto di vista formale invece abbiamo voluto fare questa sperimentazione, questa sfida tecnica di girare tutto dal punto di vista dell'arma del delitto. Allora ho deciso di fare questa commissione di generi tra LGBT e horror perché mi sono accorto quanto il pubblico cinematografico, in particolare dei festival di cortometraggi, adori l'ironia. Quindi ho deciso di fare un film che andasse anche a autoironizzare su se stesso, che non si trasse troppo sul serio e in particolare una certa mia predisposizione per tutto ciò che è il genere slasher degli anni Ottanta. Allora l'esperienza del Lover's Ghost Industry è stata particolarmente positiva, non speravo tanto, nel senso che abbiamo presentato il nostro cortometraggio, tra l'altro il genere cortometraggio era forse anche un pochino fuori dagli standard degli altri film presentati, tuttavia è stato molto apprezzato e siamo riusciti a trovare nell'arco di un'oretta il tempo che è durato il one-to-one meeting e siamo riusciti a trovare quella parte di finanziamento che ci mancava proprio perché è stato molto apprezzato ed era organizzato bene questo incontro tra produttori uno a uno nell'arco di dieci minuti. Sono molto contento che il Lover's abbia selezionato il nostro progetto per il pitching program perché non era appunto nella nostra intenzione passare subito a quella che io considero l'ultima spiaggia cioè il crowdfunding, quando ci si rende conto forse che non si hanno le predisposizioni produttive o anche se vogliamo contenutistiche per poter interessare a una reale produzione quindi ci si rifà al pubblico che comunque ammetto che è sempre qualcosa di molto interessante per un produttore vedere un risponso dal pubblico come si ha dal crowdfunding. Però no, non era la nostra intenzione, volevamo porci nel mercato in maniera un pochino più decisa. Il Lover's è stata in questo senso forse la terza, la seconda esperienza di ricerca di collaboratori. Prima è stato il Festival di Berlino, abbiamo presentato il film laggiù. Tuttavia, essendo il Lover's molto più concentrato sulla tematica trattata dal nostro progetto è stato molto più veloce e molto più facile ottenere ciò che stavamo cercando cioè collaboratori, stiamo proprio parlando di anche investitori, e aiuti coproduttivi. È la seconda volta che vengo al Lover's Film Festival, ero già venuto l'anno scorso quindi in realtà è passato anche meno di un anno, dato che si è svolto a luglio nel 2017 e come sempre sono stato accolto in maniera anche forse troppo generosa.